Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi apriamo finalmente questo set di pazzucchini Tuzis da 12 di cui ci sono 6 pazzucchini di cui uno è a sorpresa e 6 animaletti di cui 4 sono a sorpresa Una coppia è già fatta, quindi questa qua che vediamo è quella delle picorelle E questo set, se vi ricordate, vi ho detto che l'avevo comprato apposta perché c'era questo, questo e questo che mi facevano delle coppie Però sfortunatamente questo l'ho trovato nell'ultimo blind box opening in questo caso Infatti eccolo qua, però vabbè non è un problema E nulla, allora, io direi di aprirlo subito Vi faccio vedere meglio solo quelli che ci sono visibili Sono il carlino, questo qui La coppia delle pecorella Delle pecorella, sì Della pecorella Il cricetino Il gheppardo Il topolino E il pappagallo Il topolino fa una coppia che però voi non avete ancora visto L'ordine che ho fatto da un gruppo facebook Che si chiama Paciochini Tuzis Vendita a scambio, eccetera Perché non l'ho ancora aperto sul canale Ho lì il pacchetto che devo ancora aprire Fantastico Vi invito ad entrare in questo gruppo facebook Se siete amanti anche voi di Paciochini Tuzis Perché li potrete scambiarli, venderli o comprarli Quindi vi lascio come sempre i link in info box Adesso io vado ad aprire questa confezione Così è più facile aprire anche le varie blind bags E ci rivediamo tra pochissimo Eccoci qui con il contenuto Qua c'è sempre la nostra checklist Che vabbè vi apro tanto per farvela vedere Anche se ormai la saprete a memoria Quindi eccola qua Questa è la checklist Voglio il panda accidentaccio E questa la metto da parte Tanto io ho la mia qui vicino Dove ho segnato tutti i pacciocchini che ho E vi faccio vedere meglio Quelli che erano visibili Allora qua c'è la pecorella Bianca Insieme al suo animaletto Bellissimi che sono E vado subito a segnarla Così vi faccio vedere direttamente Il nome E La rarità Se la trovo Perché Ok eccola qua Allora Il pacciocchino Si chiama Shina Ed è una femminuccia Mentre la pecorella Si chiama Bailey Questa Si chiama Bailey Ed sono tutti i due comuni Entrambi ovviamente Perché la coppia è sempre uguale E Si chiama Bailey appunto E Sono La coppia della femminuccia Voglio il panda Vabbè Comunque Andiamo avanti Il ghepardo Eccolo qua Si chiama Lippi Ed è anche lui comune Poi abbiamo Il criceto Che è Qua se non sbaglio Esatto Che si chiama Happy Ed è comune anche lui E l'ho già segnato Perché appunto È di doppione Come vi dicevo prima Poi abbiamo Vediamo un po' Ah ok Questa che è Un carlino Credo Si chiama Vanda Vonda 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 Ok Ed è comune Anche questa Una femminuccia Anche lei Poi Vediamo se trovo Ok Il pappagallino È questo qua E si chiama Tiki Ed è raro E ho fatto Una coppia Sì Finalmente Poi Il topolino Che è Indietro Probabilmente Sì qui Si chiama Max E c'è Un'altra coppia Vai così E infine Il Ghepardino Ma ve l'ho già fatto vedere Cosa sto dicendo Sono fusa oggi Ok Quindi direi che Possiamo aprire I Le blinded Ci sono questi Quei sono gli animaletti E poi Si intravede già Che cos'è Questo qui Il Il paciocchino Apriamo prima Gli animaletti Vediamo un po' Ancora L'orsetto No C'è l'orsetto Che ho trovato Qua dietro Guardate Sono ottimo La visuale Nella coppia Con il cricetino Quindi Di nuovo Fantastico Vi dico Come si chiama Anche qui Si chiama Goseby Ed è comune Poi Questo è Oh forse ho fatto Un'altra coppia O forse ce l'avevo già Sì Forse mi serviva quello Viola Vabbè C'è questo qua Che è Allora Eccolo qui Infatti ce l'avevo già È dashi Ed è comune Ha messo via bingo Vabbè È lo stesso Poi Vediamo un po' Se andrà meglio Oppure no L'orsetto blu Ecco finalmente Ecco finalmente Qualcosa che mi serve Anche se non Faccio una coppia Si chiama ribet Ed è rara Che bella Che è No è bellissima La ranocchia Mi piace un sacco Mi sa che Questo bene Dovrebbe essere Dovrebbe essere Vediamo se ho indovinato Dovrebbe essere O la tigre Sì mi sa che è la tigre Perché il panda Manco proprio Mi sa che è la tigre Vediamo un po' Sì infatti è la tigre È una tigre? No forse è un orsetto Non lo so cosa sia Un orsetto Non è una tigre Ed è scampa Ed è Ultralara Ed è stupenda Era una di quelle Che volevo Quindi sono felice Trovare magari L'animaletto Sarà Un'impresa Ma va bene Ecco quindi Vabbè che Se guardate Ne inizia ad avere Veramente tanti Quindi è un po' difficile Non trovare Doppioni Quindi Ecco qui Sono tutti I pacciocchini Che ho trovato Oggi Nel Maxi Pack Quello da 12 Sono questi qui Questa è molto Molto carina Mi piace un sacco E anche la ronocchia Guardate che bella Che è È stupenda E Questi quindi Sono quelli Che ho trovato Oggi Ci sono un po' Di doppioni Specialmente Tra gli animali Questi tre Sono doppioni Questo è un doppione Però tutto sommato È andata bene Perché questi Sono tutti Sono tutti Mancanti Quindi dai Quattro doppioni Su 12 Non è tantissimo Diciamo Anche per la quantità Di pacciocchini Che ho al momento E quindi niente Io vi lascio Al prossimo video Mi mando un bacio Iscrivetevi al canale Se non siete già iscritti Per non perdervi I prossimi video E al prossimo video Ciao Ciao